Vedo con piacere che cominciano a circolare almeno in rete da parte di giovani editori delle idee che dieci anni fa erano rivoluzionarie, perché si parla di possibilità di consorziarsi, di collaborare insieme per risolvere problematiche comuni, insomma stanno rifiorendo forse quei discorsi che facevo io dagli anni 2000 intorno al libro elettronico, invitando varie case editrici ad unirsi intorno ad un mio progetto per portare avanti il discorso, discorso che ovviamente non si è realizzato, io sono andato avanti completamente da solo, ma discorso che potrebbe rinascere nel momento stesso in cui si accettasse una visione globale, perché il libro elettronico Made in Italy avrebbe una sua funzione e una sua potenzialità commerciale se venisse interpretato con una visione globale. Chi ne vuole sapere di più mi contatti, io ho un bel progetto in tasca, già tutto pronto, già tutto pronto anche a livello di dati, numeri, prospettive, chi è interessato mi contatti. Chi ne vuole sapere di più mi contatti, io ho un bel progetto in tasca, già tutto pronto, chi ne vuole sapere di più mi contatti, io ho un bel progetto in tasca, già tutto pronto,